Siamo alla ricerca di un nuovo membro per i FRZ Se siete anche voi interessate o se avete delle amiche magari che hanno un computer decente, un microfono E anche voglia di registrare, è tempo da registrare Basta che compilate un modulo che sta qua sotto nei commenti o semplicemente nella descrizione Dove appunto vi chiederò diverse domande per le quali effettivamente potreste essere prescelte Per diventare appunto dei membri degli FRZ o semplicemente dei collaboratori miei per il mio canale Dovrete mandare anche un audio su Telegram con questa frase qua in questo Telegram Lo riceverò io e vedrò effettivamente se la vostra voce potrebbe essere consona o in base a quello che effettivamente mi servirà Ovviamente chi verrà scelto avrà più informazioni al riguardo Quindi iniziate a chiamare tutti le vostre amiche